Tu ascolti musica al di fuori dal cinema, a casa, o vai ai concerti? Sì, ai concerti, moltissimo. Sono sempre andato ai concerti con i miei io-diregisti che mi aiutavano, che mi seguivano. I concerti di musica, rock, proprio, li ho visti tutti, tutti, tutti quelli che hanno fatto in Italia e qualcuno anche negli Stati Uniti quando giravo i film negli Stati Uniti. Penso di aver visto moltissimi crani, magnifici, alcuni mi hanno lasciato delle impressioni fantastiche. Questo è stato, ma tutto è cominciato però con un certo tipo di musica perché io ero molto gioco, era un ragazzino e mia nonna già aveva un parchetto all'opera, all'opera di Roma e tutti lavoravano, i grandi. Io avevo il più grande dei figli e allora mi fui, fui incaricato di accompagnare ogni volta mia nonna a vedere l'opera, il balletto e tutto quello che è successo. Devo dire che le prime volte mi addormentavo il pubblico. Poi ne abbiamo cominciato ad amare la musica operistica, ad amare il balletto, la musica del balletto e così sono cresciuto con questa musica sinfonica e in seguito poi naturalmente poi ho cominciato ad amare la musica della mia età, la musica rock, la musica esatto più progressivo e quindi devo molto a mia nonna che mi ha accompagnato per anni a vedere le opere lì che conosco tutte. quando poi ho fatto il fantasma dell'opera ho cominciato a cercare di rendermi esperto della musica francese, Bruno, Bizet eccetera e ho scoperto un altro mondo bellissimo che in Italia non viene molto arrepentato, è raro vedere all'interno dell'opera un'opera francese è molto raro, è molto sbagliato perché è bellissima la musica dei francesi, è stupenda e infatti nel film il fantasma dell'opera c'è tutta la musica francese molto interessante ho passato tre e ventimane a Parigi, infatti andare sempre all'opera poi andare a Parigi c'è la biblioteca dell'operato e nella prima vera dell'opera c'erano incisioni anche artiche, recenti quindi mi mettevo in questa specie di piccola cabina e ascoltavo queste musiche bellissime, fantastiche. Era utilizzata in parte nel film, cioè in musica del repertorio? Sì, la musica del repertorio no, l'ho fatta rifare, però è usata la musica francese, solo musica francese. Hai mai pensato a diventare musicista o a poco lontano? No, non avevo studiato al conservatorio, quindi non sapevo suonare la chitarra, quindi non ho pensato, però avrei utilizzato la musica nei miei film e quindi cosa che ho poi fatto, alcuni film, ad esempio, non so, sospiria, penso che c'è una musica molto bella e forse la più bella di tutti i miei film. Sì, hai l'impressione che tu tratti la musica nel film un po' da esperto? Sì, da esperto sì, perché, dicevo, fin da bambino mi sono interessato, non semplicemente come spettatore, come ascoltatore, ma mi sono interessato, ho cercato di scoprire delle storie di questi, dei grandi musicisti. Ad esempio, quando ho fatto il film Opera, io cercavo una... perché avevo letto che Verdi è la protagonista del Macbeth, che è l'opera che si fa durante il film, per il Macbeth voleva una interprete giovanissima, una diciassettenne, lui moriva di cena, poi non so se l'ha presa, però una molto giovane, e quindi io, nella protagonista, l'ho presa una ragazzina, una diciassettenne, una spagnola, Cristina Marzillano, con la quale, peraltro, ho dedicato tutto il film. Però, questo non c'è da niente, però, dicevo, ho seguito anche un po' anche quello che dicevano gli autori, scrivevano i melodiani.